Siamo trovati al telegiornale regionale per sordi. Sul sisma che nella notte ha colpito il Marocco, il Presidente della Regione ha espresso solidarietà, definendola una tragedia enorme. Poi ha annunciato siamo vicini alla popolazione colpita e alla numerosa comunità marocchina nella nostra Regione. Siamo pronti a dare tutto l'aiuto richiesto attraverso la nostra protezione civile. Il nodo sicurezza a Firenze. Il Sindaco torna a chiedere al Governo l'invio di 200 unità tra carabinieri e polizia. Lo fa in occasione della presentazione del progetto Volontari per la sicurezza che vedrà in campo oltre 40 persone dell'Associazione Nazionale Carabinieri per presidiare piazze e giardini e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine laddove necessario. Un servizio che aiuta il loro lavoro ma che non lo sostituisce. L'altra notte, ha detto il Sindaco, ho girato mezza Firenze e non ho trovato una sola volante della polizia o dei carabinieri e questo non va bene. Ma non è una critica a chi lavora perché gli agenti sono pochi e fanno quello che possono. Ce ne vogliono di più. Una giovane coppia ha denunciato un'aggressione a scopo di rapina stamane alle 4.30 alle cascine di Firenze. Indagini sono in corso da parte della polizia al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza. I due, 20 anni la giovane, 23 lui, erano usciti da una discoteca alle cascine e stavano andando a prendere la tramvia per tornare a casa. La giovane sarebbe stata aggredita alle spalle finendo a terra. La coppia sarebbe stata poi circondata da un gruppo di 6-7 persone descritte come straniere di probabile origine magrebina. Alla ventenne è stata portata via la borsa con telefono, documenti e altri effetti personali mentre al 23enne è stato preso il telefono che è stato poi trovato poco lontano dagli agenti. Insieme alla polizia sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che ha portato la ragazza al pronto soccorso per un piccolo taglio alla testa compatibile con la caduta. Un 29enne è morto la notte scorsa a Livorno a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima del luna in Viale Leonardo da Vinci nella zona del porto. Secondo una prima ricostruzione l'auto condotta dalla vittima si sarebbe scontrata con un mezzo pesante per il 29enne non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari. I carabinieri della stazione di Barberino Tavarnelle hanno scoperto un punto per la vendita di droga in un'area boschiva sequestrando oltre 170 grammi di cui 70 cocaina il resto hashish. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai cittadini trovando il banchino allestito in attesa dei clienti. All'arrivo dei carabinieri gli spacciatori sono scappati nella fuga hanno tuttavia abbandonato la droga che era già pronta per essere venduta. Ancora cronaca la polizia stradale ha recuperato gioielli in oro per un valore stimato di oltre 10.000 euro oltre a 13.500 euro in contanti frutto di una truffa a una coppia di 75 anni moglie e marito avvenuta solo poche ore prima a Siena e ha denunciato il presunto responsabile. Sulla 1 gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine un quarantenne italiano e hanno deciso di approfondire il controllo. L'uomo viaggiava con i gioielli nascosti negli slip mentre il denaro era accuratamente arrotolato e nascosto nel piantone dello sterzo dell'auto. Una bella notizia intervento risolutivo all'ospedale del cuore a massa per una bambina di 6 anni di origine straniera affetta da una grave cardiopatia congenita. La piccola è nata con il cuore che batte a destra e una conformazione anatomica tale da determinare una circolazione sanguigna diversa. È affetta da una particolare anatomia che, spiegano i sanitari, impone al corpo una correzione fisiologica dei flussi sanguigni. All'estero la piccola è stata sottoposta a due operazioni palliative. L'intervento risolutivo è stato invece effettuato a massa. Un pool multidisciplinare ha studiato il cuore della bambina su un modello 3D. Poi è stata operata da luminare che guida la cardiochirurgia pediatrica e del congenito adulto. La piccola è stata dimessa a 20 giorni dall'intervento. sta bene è tornata la vita normale dai suoi genitori e dalla sorella gemella. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per domani domenica. Sereno i venti sono deboli i mari poco mossi le temperature sono stazionarie o in lieve locale aumento le massime in ulteriore calo le minime. questo comporta che ci sia un'ampia escursione termica giornaliera. Ed è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.